In migliaia ci passano davanti ogni giorno, ma quanti la notano e soprattutto quanti capiscono l'importanza storica di questa pietra di indicazione. Sulla prima faccia, freccia sinistra per San Daniele, famoso centro per la produzione di prosciutti. Ma la vera storia sta sull'altro lato. Freccia destra per Farle Maiano, cioè due centri abitati nella zona. Il font ed il fatto che la freccia abbia questa grafica e sia incisa si fa capire che la pietra è della seconda metà dell'Ottocento, ma la vera storia sta nelle ultime due righe, alla strada di Germania. Indicazione particolare, perché da quel lato si deve passare necessariamente per l'Austria. E questa targa commemorativa mi fa capire che la mia intuizione era giusta, perché l'indicazione era per i tanti friulani che emigravano in Germania per fare i fornacciai, cioè lavorare nelle fornaci di mattoni. Se ti è piaciuto seguimi, scopri le tracce che la storia ha lasciato lungo le nostre strade e te le racconto.